Li riconoscete? Probabilmente no. Sono tanti, hanno un curriculum più importante del loro volto e questo in una società bigotta, fondata sull'apparenza, non sembra essere un punto a loro favore. Sono i ricercatori che si sono aggiudicati i fondi del Centro di Ricerca Europeo. Più della metà spenderà questi soldi all'estero. Così, mentre il paese che fu di santi artisti e navigatori taglia le pensioni ed istituzionalizza il precariato eterno, decine di giovani scelgono di intonare un poco romantico Bella Ciao, un arrivederci che è il sapore di un addio per un'Italia non più in grado di riconoscere i propri figli migliori. Difficile rimanere impassibili di fronte a notizie del genere. Tra i più grandi talenti che sono stati insegniti di questa borsa di studio dal Centro di Ricerca Europeo oltre 30 sono italiani e fa specie sapere che molti di questi ragazzi purtroppo non torneranno mai a casa. Perché parliamo di questo in una puntata di tempi supplementari? Perché forse per una visione un po' nazionalista siamo ancora abituati a volere immaginare tutti quanti migliori all'interno della nostra penisola. Invece non è così. Viviamo in un mondo globalizzato e non solo per quanto riguarda la ricerca e più in generale la scienza e l'innovazione ma anche e non solo per quanto concerne l'aspetto sportivo. Diamo il benvenuto al direttore di gol.com nonché giornalista di Sky. Diamo il benvenuto a Federico Casotti. Benvenuto Federico. Ciao Alvise, un saluto a tutti. Federico tu che sei uno dei giornalisti pionieri del multilinguismo se così lo vogliamo chiamare, uno di quei ragazzi che ha studiato all'estero nel nord Europa, una notizia del genere non può che toccare secondo me. Sì sì da un lato non sappiamo bene se essere orgogliosi perché comunque ci sono dei ragazzi che magari sono miei e tuoi coetanei, Alvise o anche più giovani che hanno la possibilità di farsi onore e di mostrare le loro capacità e quindi di far vedere come gli italiani siano bravi. Siano anche un popolo ad esempio di ricercatori, non solo di santi poeti e navigatori e dall'altra parte l'Arabia perché questi ragazzi non hanno la possibilità di mostrare questo talento a casa loro ma devono comunque andare ad altre parti. Quando hai detto forse anche più giovani di noi ho capito che stiamo invecchiando ma al di là di questo noi a volte associando... Parlo per me, parlo per me. No 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 ma è vero, ma è vero, ho la barba bianca, potrei chiamare Babbo Natale, ma al di là di questo Federico se proviamo ad attualizzare il tema dobbiamo anche dire una cosa, viviamo realmente in una società globalizzata, noi ce ne stiamo accorgendo in ritardo ma lo sport come sempre, perno della sociologia, ovvero di quella scienza che studia i mutamenti delle masse, beh il calcio rappresenta da tempo un elemento di cambiamento. Perché dico questo? Pensiamo a Paolo Di Bala, un calciatore che ha la bisnonna della provincia di Napoli, il padre argentino e il nonno polacco Borislav, nato in un paesino nella provincia di Cracovia. Siamo di fronte ad un talento pazzesco le cui origini sono mischiate, e allora perché non abituarci più in generale ad una società multietnica anche nostra? È un bel tema, ma lo sport come dici giustamente te ha sempre anticipato o comunque nella peggiore delle ipotesi riflettuto tutto quello che era poi a livello più grande la nostra società. Se pensiamo agli oriundi degli anni 50 e 60, gli oriundi non erano altro che... Schiaffino, Cesarini, lo stesso Angelillo, Sivori. Esatto, erano tutti espressione calcistica di un fenomeno molto più grande della nostra società, cioè il fatto che tanti italiani dovevano andare a lavorare in Sud America e di conseguenza questi figli, solitamente figli di emigrati di seconda generazione, erano considerati appunto mezzi italiani e venivano comunque accettati, tant'avevo che molti di loro hanno anche giocato in nazionale. Adesso non c'è più il discorso dell'italiano come emigrante, perlomeno non emigrante come succedeva a quei tempi, c'è però invece quello che chiamano, si chiama melting pot, perché ormai anche l'inglese ha globalizzato anche la nostra lingua, quindi è tutto così, è tutto un miscuglio che lo si può vedere benissimo non solo in Dibala, ma se pensiamo ad esempio ad Alaba, Alaba è un giocatore che gli austriaci, anche perché è uno dei più forti, forse è il più forte giocatore che hanno. Gli austriaco non ha neanche il modo di allacciarsi le scarpe probabilmente. Esatto, però per loro è austriaco al 100%, sono situazioni che riflettono la direzione nella quale sta andando la nostra società, volenti o nolenti, ma la direzione è una direzione ormai assolutamente ineluttabile, anche solo per un motivo alla base molto semplice, molto banale, è molto più facile spostarsi, è molto più facile comunicare. Fermo restando che i migliori talenti che sta proponendo il nostro calcio hanno una origine multietnica. Pensiamo alla Padula, contesissimo fra Italia e Perù. Pensiamo a Rudiger, talento di colore, forse un po' grezzo tecnicamente, che veste la camicetta bianca e nera della Germania. Ricordiamo la Germania che vince un mondiale con ben otto giocatori di origine non tedesca. Pensiamo a Evra, capitano della Francia multietnica che origini senegalesi. Pensiamo a Patrick Vieira, per il quale l'Arsenal intonò dei canti molto carini legati proprio all'origine del calciatore che viene dal Senegal e che domina nell'Arsenal. Quindi sfruttando anche l'assonanza Vieira è di Dakar, ma ha scelto la Francia e di vestire dunque la casacca transalpina. Addirittura, caro Federico, la storia dei fratelli Boateng, di madre diversa ma di padre uguale. Uno ha scelto il Ghana, l'altro la Germania. El Sharawi, padre egiziano e mamma italiana. C'è da sbizzarrirsi, ma i più forti sono un insieme di tante cose. Sì, ma pensiamo ad esempio alla Svizzera. Non ce n'è uno svizzero, forse è solo Ligsteiner. Esattamente, solo Ligsteiner, però questo ha portato anche a un cambiamento proprio della mentalità, perché sentendo anche commentatori svizzeri, leggendo i giornali svizzeri, quando si tratta di analizzare la nazionale, si concorda sul fatto che lo stile di gioco, l'atteggiamento del gruppo della nazionale svizzera rispetto a quella di 20 anni fa, quella alleata da Hoxson, dove faceva notizia Ramon Vega, che era nazionale spagnolo. Dove giocava anche il grande sforza. Esatto, questa nazionale è una nazionale che è quasi da considerare l'erede della Jugoslavia, ma proprio anche per il luogo comune che voleva la nazionale jugoslava talentuosa, incostante, un po' bizzarra. Ecco, questo tipo di eredità la troviamo forse più nella nazionale svizzera che nelle varie Croazia, Bosnia e Serbia. Cioè, se pensiamo effettivamente alla Svizzera, la Svizzera è proprio un coacervo di varie nazionalità, è un insieme di tante cose. Senderos, che ha origini spagnole, Giroud, che è un ragazzo di colore, Benaio, un portiere di chiarissime origini italiane, Vertonghen è un attaccante che tutto ha, meno che le movenze svizzere, il grande Turchi, il Mazz, aveva origini turche, è un insieme di tante cose. Ma tornando a Dybala, Dybala sembra proprio il prototipo del calciatore moderno, perché ha la freddezza nordica, ma il talento, l'eleganza e un piede meraviglioso, quel sinistro che potremmo definire d'oro, totalmente sudamericano. Assolutamente, è un giocatore che si sta imponendo oltretutto, anche come, secondo me rischia di essere anche un po' un elemento di rottura a livello mediatico, anche in confronto magari a Pogba, che ha un talento pari, ma ha anche quella tendenza, che è positiva, non lo dico in maniera negativa, ha quella tendenza a essere anche personaggio al di fuori. A volte sembra più un giostraio che un calciatore, però è uno che gioca molto anche a essere personaggio, anche magari un personaggio spendibile al di fuori del campo, anche a livello, perché no, di sponsor, di appeal mediatico, come lo sono Cristiano Ronaldo e Messi, ed è una cosa che riesce a fare, come Cristiano Ronaldo e Messi, senza intaccare il livello di professionalità. Dybala, da questo punto di vista, sembra un po' un giocatore ancora vecchio stampo, no? Il fatto comunque di far parlare i piedi, di far parlare le sue giocate, no? Ed è un, e questo è un aspetto comunque molto interessante, perché secondo me comunque può portare molti ragazzi a identificarsi comunque con lui. E poi Federico, Paolo ha detto una cosa molto intelligente, ha detto io riconosco di avere tanti ceppi d'origine per quanto riguarda la mia famiglia, perché so di essere legato a più nazioni, quindi so di non appartenere a un unico ramo, però mi sento argentino e non accetto né la Polonia, anche Boniek lo ha corteggiato oltre ad Antonio Conte per quanto riguarda invece l'Italia, non accetto nessuna delle altre soluzioni perché io mi sento argentino e se un giorno l'Argentina non mi avrà chiamato, beh, vorrà dire che non me la sarò meritato. È una frase importante detta da un ragazzo di vent'anni, eh? Sì, è una frase che implica anche serietà da parte sua, significa che non si mette all'asta. Come fece Amaury? Come fece Amaury invece? Diciamo che di esempi ce ne sono tanti vicini e lontani, no? Soprattutto nell'era dei doppi passaporti o dei tripli passaporti e delle regole anche magari con un po' più di manica larga rispetto a qualche tempo fa. Il fatto che uno come Dybala non si metta all'asta significa evidentemente che ha dei principi più evidentemente particolarmente solidi e però ha anche una forte sicurezza nei propri mezzi perché il messaggio implicito è quello che non ha paura della fortissima concorrenza che c'è nell'Argentina, soprattutto in questa Argentina, in questo particolare momento storico dove di talenti ne vengono fuori a getto continuo. Anche perché Federico in alcune nazionali potremmo giocare anche io e te, notizia di oggi o in alcuni paesi, notizia di oggi per 14 milioni all'anno Lavezzi va a giocare in Cina. Molti dicono vabbè ma è solo un biennale, beh sono 28 milioni di euro in due anni. Io e Federico Casotti per 28 mila euro all'anno ci faremmo un pensierino a giocare in Cina? Se sei d'accordo chiudiamo a 25. Ma al di là di questo il più grande talento multiettrico è sicuramente quello di Zlatan che significa dorato Ibrahimovic. Nato a Malmo che è il paradiso degli immigrati Svezia con un genitore slavo e un genitore croato. Questo è un talento sotto tutti i punti di vista. Completo e indecifrabile non solo per la sua genia ma proprio per il suo modo di stare in campo. Quindi è proprio vero che il miscuglio delle cose produce un sapore unico. Questo non vale soltanto in cucina ma vale probabilmente anche nell'arte perché no nello sport. Assolutamente. Poi ci sarà anche secondo me un dibattito tra un po' sul senso delle nazionali. Bisognerà ripensare secondo me anche il senso delle nazionali. Già secondo me il dubbio bisogna porselo adesso. Come viene intesa la nazionale? Secondo me non dovrà più essere una questione di passaporto, dovrà essere una questione di formazione, di scuola calcistica, di mettere di fronte le nazioni che i giocatori secondo il loro livello di formazione calcistica più che semplicemente di un passaporto che tutto sommato si può acquisire in vari modi. Soprattutto alla base di tutto deve esserci da parte del singolo giocatore il senso d'appartenenza sincero a una nazione piuttosto che a un'altra. Da questo punto di vista Ibrahimovic e lo abbiamo letto anche nella sua biografia, sulla sua svidicità ci sono pochi dubbi. Fermo restando che io mi metto nei panni di un tifoso polacco che in un periodo particolare avrebbe potuto avere un ridente formato da Podolski, Close e Dybala. Beh niente male eh? Niente male. E anche Lewandowski. E anche Lewandowski. E' l'unico che ha veramente. Esatto. Però non mi sembra male. Grazie a Federico Casotti, direttore di gol.com, giornalista di Sky. Un abbraccio Federico, alla prossima. Ciao Alvise, un saluto a tutti. Un abbraccio a Federico Casotti, un abbraccio alla regia che anche oggi mi ha sostenuto, Alessandra e Michele con me e soprattutto grazie, grazie ai nostri telespettatori. Se vorrete, io ne sono sicuro, ci vedremo la prossima settimana. Grazie. Ciao Alvise, un saluto a tutti.